cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago bentrovati al meteo ci attende un weekend tipicamente primaverile con bel tempo e clima gradevole il dettaglio di sabato 18 marzo sul veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso ovunque precipitazioni assetti temperature in contenuto aumento le minime saranno comprese tra 1 e 5 gradi le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso cielo sereno sgombro da nubi o al massimo con locali velature più estese verso sera dal pomeriggio maggiori addensamenti anche sulla zona montana temperature minime tra 3 e 6 gradi massime sui 13 15 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove avremo anche qui tempo stabile in gran parte soleggiato con nubi sottili in transito temperature minime tra 3 e 5 gradi massime sui 17 19 gradi all'incirca dal meteo di antenna 3 è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago 1 Grazie a tutti.